Ciao ragazzi, benvenuti, io sono Antonio e oggi parleremo di animali fantastici e dove trovarli. In modo particolare tratteremo l'argomento Nagini, visto che non si sta parlando d'altro ultimamente su tutti i vari canali YouTube che si occupano di cinema ma anche di Harry Potter e quindi anche io volevo dire la mia dopo aver sentito un po' di cose che mi hanno fatto storcere il naso. Prima su tutte c'è gente che sostiene che J.K. Rowling abbia fatto una paraculata e del becero fanservice inserendo la storia di Nagini e che questa sia semplicemente una forzatura e un'idea tirata fuori dal cappello adesso solamente per far contenti fan. Ok, benissimo, come dicevo prima, ognuno libero di pensarla come vuole ma io la penso diversamente e credo soprattutto alle parole della Rowling perché a distanza di poche ore dall'uscita del trailer la Rowling stessa ha scritto su Twitter ha espresso la sua felicità per aver finalmente rivelato questa storia dopo 20 anni lei conosceva le origini di Nagini da 20 anni ma non aveva mai trovato modo di inserirle all'interno della saga originale. Bene, è stata accusata di paraculismo perché secondo molti l'ha fatto semplicemente per fare fanservice e non era necessario. io vi dico che secondo me, in questo caso soprattutto, non è assolutamente così. Per prima cosa J.K. Rowling ha creato un universo di flora, di fauna, di personaggi un universo enorme, in continua espansione e lei, come altri autori del suo calibro prendiamo un Tolkien ad esempio o un George R. Martin è logico che debbano avere delle biografie debbano avere dei profili di ognuno dei personaggi che sono andati ad inserire all'interno del loro mondo devono creare un background di ogni personaggio metterlo su carta e poi accantonarlo così che quando avranno bisogno in futuro di ripescare qualcosa dalle origini di quel personaggio della loro storia personale loro hanno già delle storie messe da parte da poter raccontare ma credo che sia una cosa logica non parliamo di scrittori da quattro soldi parliamo di scrittori che hanno creato dei mondi dei mondi che ormai fanno parte dell'immaginario collettivo e devono stare attentissimi ad ogni elemento che vanno ad inserire all'interno delle loro storie perché la fanbase è talmente grande che ogni minimo errore viene subito fatto notare all'autore stesso come ad esempio nel primo trailer di Animali Fantastici abbiamo visto del personale del ministero materializzarsi sul ponte di Hogwarts questa cosa teoricamente non è possibile nella coerenza del mondo di J.K. Rowling ma staremo a vedere ci sarà sicuramente una spiegazione nel caso avrà sbagliato e sarò il primo ad ammetterlo perché sappiamo benissimo che non ci si può materializzare o smaterializzare all'interno dei confini di Hogwarts in quel caso siamo sul ponte quindi dobbiamo capire bene come giocheranno su questa cosa ma questo è un altro discorso che andremo a valutare successivamente dopo aver visto il film ma in ogni caso lei deve avere chiara l'origine di ogni personaggio che va ad inserire io sinceramente mi sono sempre chiesto dove Voldemort avesse preso Nagini io vorrei sapere se anche voi vi siete posti la stessa domanda perché Nagini non era un semplice animale da compagnia non era come Edwige ma parliamo di un Horcrux Voldemort aveva deciso di prendere un pezzo della sua anima e metterlo all'interno di quel serpente e quel serpente doveva avere per forza qualcosa di particolare qualcosa di così importante nei libri di Harry Potter leggiamo che quando Voldemort era senza forze Nagini lo aveva addirittura allattato e poi pensateci bene Voldemort ha messo pezzi della sua anima dentro oggetti molto importanti il diadema di Corvo Nero la coppa di Tasso Rosso l'ha messo all'interno del suo diario l'ha messo all'interno del medaglione di Serpe Verde dell'Anello oggetti molto molto particolari un pezzo è andato a finire dentro Harry involontariamente ma tutti oggetti che hanno una storia e un'importanza particolare e quindi perché ha scelto questo serpente un animale che è comunque vulnerabile alla fine un animale che poteva più o meno rischiare la vita quotidianamente perché scegliere proprio quel serpente? io sinceramente me lo sono chiesto ma una cosa una prova lampante che la Rowling sapesse già qualcosa di più rispetto a quello che ha scritto nella saga originale ci viene data dal nome stesso come è rivelato anche la Rowling il nome Nagini ha un'importanza enorme all'interno di questa discussione perché basta andare su Wikipedia io vi consiglio di farlo mettete in pausa e andateci e scrivete Naga su Google e cercate il significato su Wikipedia vi uscirà questa definizione è una pagina molto lunga vi leggo solamente l'inizio i Naga al femminile Nagini sono un'antica razza di uomini serpente presente nella religiosità e nella mitologia hinduista storie di Naga fanno ancora parte della tradizione popolare di molte regioni a predominanza hindu e buddista e si parla di Naga in Sri Lanka, Sud-Est Asiatico, Nepal, India, Bali quindi siamo di fronte a un nome che già di per sé racchiude tutta la spiegazione Nagini è il femminile di questi uomini serpenti presenti nella mitologia indiana nella mitologia hindu e buddista quindi ragazzi di cosa stiamo a parlare? di cosa stiamo parlando? la Rowling sapeva benissimo che Nagini era una donna quindi perché adesso dobbiamo dire che la Rowling ha tirato fuori una paraculata così tanto per inserire del fanservice non ce n'era bisogno c'è tantissimo fanservice in Animali Fantastici basta nominare un incantesimo che già la gente ha i peli delle braccia alti così quindi non era necessario andarsi a inventare una storia così complessa dietro un serpente e quindi io credo per questo davvero che la Rowling sapesse già di cosa parlare all'interno di questo film ma non solo per questo motivo io ho preso anche degli appunti per esempio ragazzi in quanti hanno fatto caso a questa cosa? si tratta della prima edizione di Gli Animali Fantastici dove trovarli? di Newt Scamandro qui addirittura anche il cognome era stato italianizzato in un certo senso ed è l'edizione del 2001 questa è molto molto rara ormai diventata ma credo che il contenuto sia rimasto invariato e se girate la vostra copia potete vedere come c'è un editore uno pseudo editore del mondo magico che ha collaborato con Salani per la pubblicazione di questo libro sapete come si chiama questo editore inventato nel 2001? si chiama Obscurus Books ragazzi gli Obscurus noi li abbiamo sentiti citati per la prima volta solamente due anni fa nel primo Animali Fantastici e dove trovarli e invece la Rowling l'aveva inserito già qui dietro questa copia di Animali Fantastici come casa editrice Obscurus Books nel 2001 cioè ragazzi parliamo di 15 anni prima quindi lei sapeva benissimo cos'era un Obscurus e come se non bastasse ragazzi abbiamo un'ulteriore prova di quanto sia studiata di quanto ci sia ancora di non detto in questa saga grazie a Ariana Silente ormai tutti abbiamo capito che probabilmente Ariana era un Obscurus era posseduta da un Obscuriale ma questo non viene spiegato nella saga originale l'abbiamo capito solo adesso due anni fa guardando Animali Fantastici e non è che la Rowling si sia inventata questa cosa da un giorno all'altro sicuramente era qualcosa che voleva inserire nella saga ma che poi per questioni di spazio e per questioni di lunghezza di libri e per dare spazio a altre parti più importanti della trama in quel caso ha deciso poi di omettere di tagliare ma lei sapeva benissimo che Ariana era un Obscurus e infatti secondo me la vedremo nei prossimi film di Animali Fantastici o comunque se ne parlerà vedremo dei ricordi vedremo qualcosa sicuramente verrà spiegato anche nei prossimi film quindi perché accusare la Rowling ogni volta di fare fanservice e di uscirsene con queste cose solo per fare delle azioni da paraculo come è stato detto da tanti non è vero non è così in questo caso la Rowling ha trovato finalmente il modo di poterci raccontare le origini di Nagini io ne sono strafelice ne sono contentissimo e mi secca dover sentire sempre polemiche inutili quando si è polemizzato sulla maledizione delle rede allora sì in quel caso va bene quella è stata molto una forzatura è stata molto criticata le critiche ci stanno lei ha firmato qualcosa che non ha scritto di suo pugno e lì ha sbagliato tantissimo secondo me e secondo tanti altri ma quello è un altro discorso ma se parliamo della saga originale di Animali Fantastici che è scritta di suo pugno qui lei sta attingendo a mani piene da tutto il materiale che aveva già in suo possesso di tutto quello che aveva scritto e che non era stato raccontato la storia tra Albus e Grindelwald è stata appena accennata è stata appena scalfita in Harry Potter adesso finalmente è riuscita a trovare sfogo e a poter raccontare per intero tutta questa storia magari adesso o comunque sicuramente adesso la storia si sta smussando parecchio e lei sta riuscendo a mettere in ordine tutto quello che aveva nella sua testa ma già di base qualcosa lei aveva lei già sapeva cosa stava andando a raccontare all'inizio tutti quando abbiamo visto Animali Fantastici e dove trovarli abbiamo saputo che ci sarebbero stati 5 film abbiamo storto il naso perché pensavamo 5 film da questo libro lei come fa a tirarli fuori ma una volta visto il primo film usciti dal cinema ci siamo tutti resi conto che gli Animali Fantastici avrebbero fatto da cornice una storia molto più grande che doveva essere raccontata ed è quella appunto tra Silente e Grindelwald che poi culminerà con lo scontro epico del 45 e quindi sicuramente vedremo il giovane Tom Riddle vedremo a questo punto come Nagini arriverà ad incontrarsi col piccolo Tom Riddle ma secondo me potremmo anche trovare Aragog potremmo trovare diverse cose all'interno di Animali Fantastici e sicuramente tutto verrà cuscito e collegato assieme e mi secca soprattutto sentire anche quando viene detto che non per forza bisogna collegare ogni cosa a Harry Potter ragazzi è uno spin off di Harry Potter è un prequel di Harry Potter volente o nolente è così quindi è logico che la Rowling dovrà collegare tantissimi fatti abbiamo anche dei personaggi in comune non solo il mondo abbiamo Silente che è presente in entrambe le saghe abbiamo Newt Scamander che in ogni caso è ancora in vita durante Harry Potter quindi ragazzi perché lamentarsi di ogni collegamento secondo me non ha assolutamente senso e poi ultima cosa e chiudo ho sentito dire a Victor Lazlo durante una live che secondo lui J.K. Rowling ha tirato fuori la storia degli Horcrux solamente dopo aver scritto i primi quattro libri quindi la Rowling avrebbe scritto quattro libri senza avere la minima idea di dove stesse andando a parare e che quindi lei durante la stesura degli ultimi tre volumi si sia tirata fuori questa idea degli Horcrux quest'ideona che poi è andata a ricollegare a tutti i libri precedenti così senza sapere come voglio ricordarvi voglio ricordare soprattutto a chi sostiene questa cosa che ragazzi la Rowling ha creato dei collegamenti allucinanti all'interno della saga tra tutti i volumi sono tutti cusciti uno con l'altro lei stessa ha dichiarato più volte di avere ben chiara come si sarebbe svolta la storia dal primo all'ultimo libro ragazzi vogliamo parlare del semplice fatto che l'anello con la pietra della resurrezione era all'interno del primo boccino che Harry catturò durante la sua prima partita di Quidditch e che si era aperto semplicemente mettendolo in bocca perché la sua saliva era già stata in contatto con la superficie del boccino nel primo libro cioè ragazzi queste non sono cose che si fanno a caso sono cose perfettamente pianificate ma come questa ce ne sono tantissime altre all'interno della saga di Harry Potter poi possono esserci incoerenze possono esserci delle cose che magari non dovevano starci come la giratempo che la stessa Rowling si è pentita di aver inserito e che infatti poi nel quinto libro ha distrutto e non si sa per quale motivo abbia reinserito all'interno della maledizione dell'erede che ripeto non è stato scritto da lei ma è stato solo approvato da lei ma quello è un discorso che non voglio reprire dove lei ha sbagliato tantissimo ma tant'è ormai ce l'abbiamo l'abbiamo accantonato discorso giuso quindi ragazzi io consiglierei a chi si lamenta a chi sostiene che la Rowling abbia fatto tutto a caso che la Rowling sia una paraculo e tutte queste robe qui io consiglierei di leggere questo libro di David Colbert I magici mondi di Harry Potter dove si trova la spiegazione ad ogni singolo nome di ogni singolo personaggio ma come potete trovarla qui potete trovarla anche all'interno di Guida alla saga di Harry Potter di Vallardi o potete trovarla anche all'interno del Lexicon io consiglierei di andarsi a leggere i nomi dei personaggi semplicemente e andare a capire come ogni nome abbia un significato più profondo all'interno della saga così come Nagini sicuramente non è stato messo a caso consiglio anche la lettura di J.K. Rowling l'incantatrice di 450 milioni di lettori di Marina Lenti ci sono davvero tante letture interessanti in questo senso come i tre volumi che trovate solamente in formato ebook pubblicati su Pottermore ma che trovate anche su Amazon scritti da J.K. Rowling dove vengono raccontate molte altre storie tutte di suo pugno come ad esempio troviamo tutta la storia la vita di Minerva McGranit anche quella molto molto interessante è sicuramente storia che la Rowling sapeva e già conosceva la storia della Umbridge troviamo anche tutto il processo per diventare un Animagus davvero la Rowling ha tantissima roba messa da parte potrebbe continuare a scrivere su Harry Potter ancora per decenni ma sicuramente ci sarebbe sempre qualcuno pronto a dire che è una paraculo ragazzi questa cosa come avrete notato non mi è proprio andata giù avrà tanti difetti J.K. Rowling ma sicuramente a parer mio non è una paraculo soprattutto nel campo di animali fantastici dove trovarli dove secondo me sta facendo un lavoro superlativo non è facile tirar fuori un'altra saga di altrettanto successo e che sta creando lo stesso hype che creava in chi come me aspettava dietro la libreria il giorno dell'uscita del nuovo volume di Harry Potter o del nuovo film al cinema io ragazzi davvero non vedo l'ora di andare a vedere tra poco meno di due mesi il nuovo film di Animali Fantastici e poi sarò qui per commentarlo assieme a voi adesso vi passo la palla fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate se ho torto se ho ragione se la pensate come me se non la pensate come me siamo qui per discutere e dibattere fatemi sapere cosa ne pensate di Nagini io personalmente lo ribadisco sono contentissimo che sia stata inserita all'interno di Animali Fantastici e quindi ragazzi ne riparleremo ancora io vi ricordo comunque che su Pampling trovate magliette potteriane o magliette di qualsiasi altro fandom in questo caso quella di Star Wars e le potete trovare col 15% di sconto inserendo il codice 7POTTER tutte le volte che volete senza limitazione ragazzi detto questo io vi do appuntamento a prestissimo sempre qui sul canale con tantissime altre novità ciao 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 ciao